Ieri c'è stata questa visita in Abruzzo, non è stata una bellissima giornata. Avete raccolto risultati, però ci sono state delle contestazioni. Io credo che la stampa farebbe bene anche a porsi il tema di ciò che si è detto e di quanto si è detto e la qualità anche degli impegni presi. Io mi riporto a casa come Sistema Regione la disponibilità del Presidente Renzi a generare una roadmap, un'agenda per quanto riguarda i problemi dell'Abruzzo nel quadro dei problemi del Meridione. Certo non mi dispiace neanche l'utilizzo di questa categoria. Il master plan della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguarderà sia le città metropolitane del Sud che l'intera Regione Abruzzo. Adesso è il tempo dei progetti. L'ultima, Presidente, c'è stata una battuta che non è piaciuta del Premier Renzi sui tifosi del Teramo in un momento non facile per la società bianco-rossa. Lui ha rilevato su alcune scritte anche la segnalazione del problema della, tra virgolette, declassifica. Su questo Renzi ha usato una battuta da sportivo qual è? Ma io voglio per esempio dare una mano concreta nel rispetto delle procedure affinché le ragioni della comunità sportiva vengano rispettate. È stata una bella giornata per ciò che D'Alfonso è riuscito a incassare per l'Abruzzo e per l'Aquila. La certezza delle risorse dell'Aquila è un'agenda che si tradurrà in un contratto in un master plan firmato da Renzi e da D'Alfonso nel quale si stanziano risorse per fare cose che individua la Regione Abruzzo, tempi e cronoprogrammi verificabili. Questo è il risultato che noi portiamo a casa. Anche l'apertura della vertenza di Umbrina come ci hanno chiesto gli abruzzesi, come noi abbiamo detto agli abruzzesi in campagna e troia che ci saremmo battuti contro. Dopodiché se 30-40 persone, perché non riguardava tutta la comunità che protestava, diciamo i 30-40 più maleducati hanno rovinato anche la protesta legittima di chi è andato lì civilmente a rappresentare un proprio pensiero. Qua è in discussione lo scadere nella violenza, perché non sono state tirate solo le uova, sono state tirate San Pietrini. A me personalmente stavo vicino a Lolli ed altri siamo stati sfiorati anche alla testa da San Pietrini, quello che c'entra con la protesta. Allora quelle 20-30 persone hanno rovinato anche la protesta e chi protesta però deve pensarla prima la cosa, cioè deve sapere che in mezzo a quella gente, se loro non sono capaci di governarla, poi succedono quelle cose.